Sono Francesca Senette e sono qui ad Aosta per il primo Yoga Festival della regione. La seconda tappa è il 3 e il 4 di giugno al Forte di Bard. Si comincia sabato sera con un bellissimo concerto di Prem Joshua Band. E poi la domenica una giornata meravigliosa dedicata allo yoga. Classi gratuite, yoga per bambini, libri, incontri, il solstizio d'estate e un sacco di altre cose. Tutte le informazioni le trovate sul sito www.yogafestival.it Non potete mancare, vi aspetto. Namastè